Abbiamo bisogno di utilizzare al meglio gli strumenti del progresso, siamo tutti inquieti perché un giorno un impiegato di banca visceglie gira nella rete e prende dati di tutti, prima ancora Striano fa delle cose quantomeno non controllato dal procuratore nazionale antimafia dell'epoca che, piaccio meno, si chiama De Rao e non può stare a indagare sulle cose che sono avvenute, casomai non per sua colpa ma l'ho messa a vigilanza e diventa rilevante quando lui era la popola antimafia, oggi scoppia quest'altra vicenda ai cui i confini non ancora ben capito perché è ancora in itinere, 800 mila ingressi, ma anche dati anche situazionali violati, il tema è che con la tecnologia la gente sveglia oggi può fare anni che 50 anni fa si dovevano fare copiando, fotografando i microfilm, tutte cose che abbiamo visto nei film di spionaggio e che oggi non ci sono più perché i bit viaggiano rapidamente, non possiamo avvenire il progresso, abbiamo bisogno di fare una verifica sullo stato dell'arte. E' un pericolo per la democrazia questo? Certo, è un pericolo per la democrazia, anche il superpotere dei conosci, del web, dei fake news, del saccheggio digitale del vostro lavoro dei giornalisti, però quello è un altro aspetto, cioè l'era digitale ci mette di fronte ad alcuni vantaggi innegabili e alcuni rischi innegabili, saccheggio digitale, tutela del copyright, ancora l'aspetto più civile che è pure un danno, le tasse che non pagano, il commercio elettronico che si sfugge a qualsiasi controllo, qui ci sono altri aspetti, la banca, la procura antimafia, l'investigatore privato che 30 anni fa avrebbe seguito il marito o la moglie che si tradivano, adesso invece casomai su commissione fa delle ricerche, perché oggi è più facile, ma è un problema mondiale, mi scusi, perché poi questo non è proprio solo italiano, poi noi forse mettiamo più in piazza le cose, ma questa è anche una garanzia di maggiore trasparenza, o portet ut scandala emeniant, dicevano i latini, è bene che gli scandali accadano perché così tu scopri un guaio, è come una malattia, c'è la febbre e ti segnala casomai o una sciocchezza o una malattia e tu casomai se hai un'infezione ti accorgi dalla febbre e ti curi, qua noi abbiamo una febbre ricorrente che ci segnala delle infezioni, abbiamo fatto le autorità della privacy, le autorità della cyber, abbiamo fatto tutto, evidentemente non siamo adeguatamente protetti da fenomeni che sono a molti di saccheggio di notizie private e altre volte possono essere anche degli attentati alla sicurezza o alla riservatezza di organi dello Stato, organi di polizia, evidentemente la tecnologia potenzia questi rischi, ma deve tirare anche le difese, perché noi possiamo già tornare al mondo del foglio, della carta e penna e quindi un work in progress che deve essere proseguito senza esitazione, andando avanti anche sui fatti di cronaca che il Parlamento dovrà analizzare, ho chiesto da tempo un dibattito anche in aula, però poi dobbiamo dare un indirizzo, se no facciamo un giro di interventi, ognuno dice quello che diciamo nei convegni e in televisione e restiamo così nudi di fronte ai bit.